E' ora ordinabile anche in Italia il nuovo veicolo commerciale d'Italia Media in versione 100% elettrica. Nuovo Peugeot e-Expert arriverà infatti nelle concessionarie in autunno con un listino che parte da 32.600 euro IVA esclusa. Si tratta di un perfetto esempio del Power of Choice di Peugeot, con due diverse capacità della batteria che possono arrivare a un'autonomia di 330 km nel ciclo VLTP. Ma anche tre lunghezze del veicolo, Compact, Standard e Long. Una capacità di traino di 1000 kg con 1275 kg di carico utile e un volume di carico identico alle versioni termiche. Nuovo Peugeot e-Expert adotta una motorizzazione 100% elettrica in grado di erogare 136 CV e 260 Nm di coppia immediatamente disponibile. Si distingue dalle versioni termiche per alcuni dettagli specifici come il logo del leone cangiante, la calandra anteriore ridisegnata, la grafica dedicata per lo schermo touchscreen a centro plancia e il selettore delle modalità di guida. In aggiunta ad e-Expert, Peugeot ha recentemente tolto il velo alla versione 100% elettrica del veicolo commerciale più grande della sua gamma, il nuovo e-Boxer. Forte di un successo commerciale che conta oltre 1.250.000 esemplari venduti in 110 paesi del 1994, Peugeot Boxer arriva ora sul mercato anche in versione totalmente elettrica. Il nuovo e-Boxer offre la stessa funzionalità e modularità delle versioni termiche, come un carico utile che arriva a 1890 kg, ma sfrutta un innovativo powertrain elettrico da 122 CV con la scelta tra due diverse batterie da 37 o 70 kWh, per un'autonomia a zero emissioni che arriva fino a 340 km nel ciclo misto VLTP. Autonomie più che adeguate alle percorrenze medie quotidiane di chi usa questa tipologia di veicolo e ha bisogno di accedere liberamente ai centri urbani. Quattro lunghezze, tre altezze e allestimenti specifici a cabina singola, doppia o pianale cabinato fanno di nuovo Peugeot e Boxer il compagno ideale per i professionisti di tutti i settori.